T'amo, ogni giorno, ogni istante di più T'amo, perché al mondo per me ci sei, soltanto tu Facciarti così, pervidamente, sentirti fremere di felicità Hai bisogno del leggio? Pronti per un'altra puntata? Qui Romagna Allora, qui Romagna Buono, partiamo bene Qui Romagna E qui c'è anche un libro 25 Qui c'è anche un libro Una storia così bella da diventare leggenda Non piangere, non ti commuovi Ogni tanto mi diverto ad andare a sfogliare questo libro Che racconta, insomma, un po' di storie di Romagna mia Sì Canzone Walzer di secondo caso dai Analisi musicale Le fonti, la forma poetica, la strofa Insomma, voi che magari qualche curiosità ce l'avete su questa canzone Potreste avere la possibilità di risolvere tutti i vostri dubbi Facendo cosa? Prendendo Prendendo questo libro Che bravo Veramente Ragazzo C'è tutto qua In questa settimana faremo vedere un po' di queste cose Sì, 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 esatto Tanto ne avremo per i prossimi 24 mila anni No, vabbè Andiamo con la musica Andiamo, quindi ci scateniamo sulla nostra pista da ballo E con i nostri collegamenti A dopo Din don, din don, din da Aria di sangue e campesti Din don, din don, din da Aria di felicità Dai campanili nel vento Giunge un rintocco al mio cuore E fra i vigneti nel sole Giunge un rincanto d'amor Sogno le donne nostrane Che tornano dalla campagna È la bordela La classe femma basè Sota la loro furlè Sei tu fornì La più cara città del mondo Se sono lontan Tanto vuota è la vita mia Se penso a te Un violino mi canta in cuore Rivivo un sogno che un giorno fiorì Nella mia bella fornì San Mercuriale nell'ombra Veglia la bella città E tra i nottamboli in coro Canta nell'oscurità Passano allegre brigate Da piazza saffi ogni sera Poi tutti quanti si vanno a fermar Dove si va la un'erba Sei tu fornì La più cara città del mondo Se sono lontan Tanto vuota è la vita mia Se penso a te Un violino mi canta in cuore Rivivo un sogno che un giorno fiorì Nella mia bella fornì Nella mia bella fornì E che sei l'orchestra Caro fornì Se penso a te Un violino mi canta in cuore Rivivo un sogno che un giorno fiorì Nella mia bella fornì Un di ritornerò Nelle mie belle fornì Din don, din don, din da Nella mia bella città Nella mia bella fornì Novella E Luca Bergamini Grazie Grazie Un saluto a tutti i nostri telespettatori E siamo sempre qui dal Bullying Seventies Dove oltre a tanto intrattenimento Noi ci occupiamo anche di arte E in particolare questa sera Siamo col maestro Mario Beltrambini Beltrambini Che lui si occupa di fotografia E non solo Ma noi lo lasciamo dire a lui Maestro prego Ben trovati a tutti Io mi occupo di fotografia Da oltre trent'anni Sono presidente di un'associazione fotografica di Savignano Scudovicone L'associazione cultura immagine si chiama Che ha festeggiato nel 2014 25 anni di attività Io sono stato presidente Sono ancora presidente da un decennio anche più E nelle svariate cose che abbiamo fatto come associazione Ce n'è una in particolare Che ci viene riconosciuta come molto importante Da parte del pubblico e degli appassionati di fotografie Abbiamo inventato quello che si chiama portfolio in piazza Che cos'è portfolio in piazza? E' una manifestazione E' una manifestazione di lettura Di immagini fotografiche Sulla piazza di un paese Però interessante questa cosa Praticamente degli esperti Visionano i lavori dei fotografi E ne danno un giudizio Consigli Eccetera E sicuramente è stata una novità Nel 1992 Quando abbiamo fatto per la prima volta questa cosa In Italia non era mai stata fatta Noi abbiamo avuto un'esperienza Abbiamo visto a Milano Durante la fiera della fotografia Che si teneva ogni due anni Il famoso Sikov Che c'era qualcosa di simile E abbiamo chiamato l'organizzatore Questo personaggio Lanfranco Colombo Foliedrico Un grandissimo personaggio Che si è prestato subito E si è dimostrato subito interessato A sviluppare questo nuovo progetto con noi Che ha avuto un seguito Oggi Oggi mamma mia Dopo tanti anni Ancora siamo qui E siamo qui anche al Bulling 70's A parlare di fotografia Perché il Bulling 70's Non è solo divertimento Ma è anche cultura Questo fa piacere Perché la fotografia è una cosa fantastica Secondo me No vabbè d'accordo Questo fa piacere Il fatto che ci sia Questa Dell'immagine che noi andiamo professando Da tanti anni Ancora siamo qui Ancora siamo qui Anna Maria Sono triste perché tutto Ecco di sfuggevole Ma voglio vivere perché la vita sorride Fremono i miei passi al ritmo della vita che è come una fiamma Balla la vita Balla l'amore Fuoco che scorre dentro le vene Terra che amo Terra che amo Amami ancora Fa che il mio eco Arrivi lontano Ho un fuoco Dentro a me Ho un fuoco Che mi brucia l'anima Ma devo vivere perché Mi miei occhi C'è luce Ero triste Tutto era Inafferrabile Ma Voglio vivere Perché la vita sorride Fremono i miei passi al ritmo della vita che è come una fiamma Corrono i miei passi al ritmo della vita che è come una fiamma Corrono i miei passi al ritmo della vita che è come una fiamma Balla la vita Balla la vita Balla l'amore Fuoco che scorre dentro le vene Terra che amo Amami ancora Fa che il mio eco Arrivi lontano Il mondo sorride anche se Buongi allora sorride alla vita che corre La terra trasfoda di nuova speranza E un eco E un eco ci invita alla danza Balla la vita Balla l'amore Fuoco che scorre dentro le vene Terra che amo Amami ancora Fa che il mio eco Arrivi lontano Maria Maria E' lei che accende il ballo Grazie Con lei la vita si accende Edizioni musicali Casa Dei Sonora Divertiti con l'allegria della nostra musica Edizioni musicali Casa Dei Sonora E' una garanzia Spartiti con i brani più belli firmati Casa Dei Polche, balser, mazzurche A soli di clarinetto e sax E tutti i ritmi internazionali più ballabili CD, musicassette e DVD Per avere sempre a casa tua Una grande festa Edizioni musicali Casa Dei Sonora La tradizione L'attualità In Italia mi siete ancora collegati con il Piper di Rigone in occasione di questa sfida Ecco qua è partito il sac di Fiorento il duetto con la fisa armonica del genovese mentre il pubblico del Piper sta ballando Enrico Millie la fisa armonica del Piper Grazie a tutti. E' il partito, Fiorenzo. Venite qua vicino, qua, qua vicino. Venite, venite. C'è l'ansistitazione. Applaudio, Fiorenzo. Adesso questo collegamento dovrà, questo movimento non è abbastanza. Domani vedrete il seguito. Hai detto in chiusura c'è la tua? C'è la tua cam. Ah, la MCC c'era. E che avevi capito. La MCC. Esatto. Moreno con Ficcoli cam. Sai che c'è la gente che mi ferma, no? E mi dice, ma come ci matvurde lui due, due messi insieme. Anche perché raccontiamo una musica piena di allegria, piena di valori. Esatto. E allora noi cerchiamo di condividerli nel nostro modo di presentare. Esatto. Quindi detto questo, andiamo via. Anche perché è finita. Sì, che è in chiusura, ci vediamo domani. Per oggi è tutto dalla Romagna, naturalmente. Ciao, ciao, ciao. Andiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.